Michele Gianella Revisoree Allora, chiunque di voi abbia mai avuto un animale a casa sicuramente avrà vissuto la sensazione di dire mi sta dicendo qualcosa, peccato che non abbia le parole per dirmelo. Oppure, usando l'espressione di mia nonna Veneta, che manca solo e a paroia, che tradotto significa gli manca solo la possibilità di esprimersi a parole per essere a tutti gli effetti un essere umano. Beh, in realtà, se ragioniamo davvero, il linguaggio ci caratterizza come esseri umani. Quello che facciamo ogni giorno quando parliamo è prendere l'insieme questa nuvola di idee, concetti e pensieri che abbiamo, tradurla in concetti astratti, chiamata in linguistica semantica dei concetti. Questi concetti poi vengono concretizzati in parole, che in linguistica si chiama lessico della lingua. Queste parole poi vengono selezionate da noi quando parliamo e vengono messe in ordine di significato per costruire una frase. Quest'operazione di selezione e messa in ordine è la sintassi della lingua. Poi, quando parliamo, in realtà andiamo a prendere nei cassetti della memoria i suoni che corrispondono alle lettere che abbiamo inserito nelle nostre parole. Questi suoni vengono definiti fonemi e per produrre dobbiamo mettere insieme una stringa fonologica. Quindi, mentre io sto parlando, io sto facendo tutte queste operazioni contemporaneamente. Un processo complesso, lungo, faticoso, mi direte voi. Beh, complesso per chi lo studia, per niente è faticoso per chi parla e per chi lo comprende dalla nascita. Infatti, il nostro cervello è predisposto per questo, per poter produrre e comprendere il linguaggio. Cogito ergo sum, direbbe qualcuno. Penso dunque sono. Certo, dico io, ma ricordiamoci che siamo anche attraverso le nostre parole e il nostro linguaggio. Grazie.